Anche Federico Fescio Style è positivo al Covid-19. Il parrucchiere lo ha annunciato sulla sua pagina Instagram di ritorno dalle vacanze in Sardegna. Il 29enne di Anzio lo ha ribadito sia con un posto sul proprio profilo che con una serie di stories. Ciao ragazzi, non sono sparito per due giorni ma volevo dirvi che sono tornato a Roma dopo le vacanze in Sardegna e come voi sapevate ho fatto il test seriologico del Covid-19 e era risultato negativo soltanto che non mi sentivo molto bene ho deciso di fare il tampone e sono risultato purtroppo positivo al Covid-19. Ho la febbre, ho dei sintomi un po' strani, un po' di spostatezza, mi gira tanto tanto la testa, mi sento molto bene e però vi voglio dire che mi sento comunque non tanto bene però in maniera superabile. Sono qui a casa, sono in isolamento assoluto, ci tenevo a dirvelo. Ragazzi voglio ringraziarvi per i tantissimi messaggi di supporto che mi state mandando in direct, grazie grazie, ne fanno sempre piacere. Però colgo l'occasione per parlare un po' con voi per quanto riguarda saloni. Allora i saloni di Roma e Milano io non ci vado da prima delle vacanze quindi comunque il problema non ci sarà e soltanto per chi ha preso appuntamento esplicitamente con me adesso il centralino provvederà a richiamare tutte le persone magari a fissare un appuntamento con me subito dopo i miei 14 giorni di quarantena. E invece per il salone di Anzio che è stato l'unico salone che ho frequentato prima delle vacanze e lì provvederemo a fare la sanificazione, tamponi di tutti i ragazzi e riapriremo prestissimo. Vi tengo aggiornati.